Dopo due anni, ecco nuovamente una versione di Ubuntu LTS. Come ben sai, Ubuntu è disponibile in diverse edizioni, che si differenziano dal desktop utilizzato. In questo video vediamo l'edizione col desktop Mate. Prima di continuare, ti ricordo che io faccio video dove parlo di Linux, di programmazione e di retrocomputing. Se questi argomenti ti interessano, iscriviti al mio canale, attiva la campanella, commenta e metti un like a questo video. Vediamo anzitutto che novità ci sono rispetto alla versione LTS precedente. LTS precedente, uscita nell'aprile del 2020. La prima cosa che salta all'occhio è un nuovo tema grafico, chiamato Yaru, che poi è lo stesso tema utilizzato dalla versione principale di Ubuntu. Abbiamo a nostra disposizione varianti sia chiare che scure, e per ogni variante abbiamo anche diversi colori di accento da scegliere. Ti faccio notare anche la sottigliezza che, in base al colore di accento, cambia anche il colore di accento dalle icone delle cartelle. Quindi, se non ti piace il verde che è caratteristico di Ubuntu Mate, troverai sicuramente una combinazione di colori che fa il caso tuo. Sempre rimanendo in ambito di tema grafico, gli indicatori che vedi in alto destra ora sono gli Ayatana Indicators, ed anche loro hanno un tema grafico aggiornato. Altra novità rispetto all'ultima versione LTS è il kernel versione 5.15, che porta con sé un nuovo driver per file system NTFS, chiamato NTFS3, da non confondere con NTFS3G. Anche se, stando ad una notizia riportata da Fornix, il futuro di questo driver è incerto, poiché pare che sia rimasto senza un maintainer. Ultima novità, che a dire il vero è un po' controversa, è che Firefox ora è pacchettizzato come Snap. Questo significa, da un lato, che si aggiorano automaticamente, ma dall'altro, il primo avvio di Firefox appena avviato il sistema operativo è più lento del normale. Sento molti che si lamentano del fatto che Canonical vuole spingere il formato Snap a tutti i costi, quando tutti gli altri invece si stanno muovendo verso Flatpak. Queste critiche non sono del tutto infondate, ma si dimenticano di una cosa fondamentale. Flatpak non è in grado di fare tutto ciò che fa Snap. Vedi, non esistono solo applicazioni grafiche in un sistema. Se parliamo di applicazioni grafiche, allora sì, sono d'accordo che Flatpak sia una scelta molto più sensata di Snap, e Firefox avrebbe avuto molto più senso di essere installato come Flatpak in questo caso. In un sistema Linux, però, non ci sono solo applicazioni grafiche, ma ci sono anche applicazioni a linea di comando, compilatori, librerie, driver, plug-in, server... Tutte cose che Flatpak non è in grado di gestire, ma Snap sì. Il vero problema qui è che Canonical sta sfruttando malissimo gli Snap, dando la percezione che siano semplici i concorrenti di Flatpak, quando in realtà sono molto di più, e continuano a delizzare delle politiche discutibili nella gestione dello Snap Store. Peccato. Novità che non troviamo invece in questa versione di Ubuntu Mate, sono l'utilizzo di Wayland per la sessione Mate. C'erano degli esperimenti di utilizzare Wayland attraverso il server mirror qualche anno fa, ma dal 2019 non ho più saputo niente. Ma soprattutto, grande assente in questa versione è Pipewire per quanto riguarda l'audio, cosa che Fedora fa già con grande successo da un anno ormai. Ma torniamo al nostro desktop Mate. Come tu ben sai, Mate è la continuazione di Gnome 2, desktop che Ubuntu utilizzava nell'edizione principale prima di passare a Unity. Usando Ubuntu Mate, quindi, sembra di essere in un universo parallelo in cui Canonical non ha mai smesso di utilizzare Gnome 2. Abbiamo il pannello in alto che contiene a sinistra il brisk menu e le icone per l'avvio rapido delle applicazioni, e a destra gli indicatori Aetana ed il pulsante di spegnimento. Nel pannello in basso abbiamo il pulsante Mostro Desktop, la lista delle finestre aperte, i quattro desktop virtuali ed il cestino. Se questa disposizione non ci piace, allora abbiamo a disposizione il tool Mate Tweak, dove possiamo scegliere una disposizione di pannelli alternativa. Abbiamo Contemporary, che cambia veramente poco rispetto al default, non so nemmeno perché esiste. Abbiamo Cupertino, che cerca di emulare l'aspetto di MacOS con il pannello in alto e la doccia in basso. Abbiamo Familiar, che è il default. Poi c'è Mutiny, che cerca di emulare come si comportava il desktop Unity, con la tocca a sinistra e il menu globale in alto. Abbiamo poi Pantheon, che cerca di emulare il look and feel del desktop Pantheon di ElementariOS, con il pannello in alto e il doc in basso. Abbiamo Redmond, che cerca di emulare l'aspetto di Windows con il pannello in basso. Ed abbiamo infine Traditional, che è come si comportava Gnome 2. Ci abbiamo i tre menu Applicazioni, Risorse e Sistema al posto del Brisk Menu. Quindi, se vieni da un sistema operativo inferiore, oppure da una distribuzione Linux con un ambiente desktop differente, potrai avere una disposizione di pannelli e opzionalmente doc con cui sei abituato. Indipendentemente dal layout che scegli, ti consiglio però di attivare il HUD, che ti permette, attraverso la semplice pressione del tasto Alt, di avere un comodo pannello di ricerca delle voci di menu, così non dovrai più impazzire a cercare quale sottomino si trova una determinata opzione. Per il resto, no, sto a dirti quale applicazioni ci sono installate di default, che tanto puoi facilmente aggiungere o rimuovere altre applicazioni attraverso la software boutique, o meglio ancora, attraverso la linea di comando. Concludendo, questa versione di Buntomate mi piace assai. Il solo nuovo tema grafico vale l'aggiornamento, a mio avviso. Poi, ovviamente, avere software più aggiornati rispetto alle versioni LTS di due anni fa fa sempre piacere. Firefox in versione Snap funziona bene, e anche se il primo avvio è più lento del dovuto, è comunque accettabile. Se proprio detesti gli Snap, puoi sempre installare Firefox da Flatpak, e tra l'altro, a differenza dell'edizione principale di Ubuntu, Ubuntu Mate supporta i facchetti Flatpak già out of the box. Così non dovrai preoccuparti di scrivere il difficilissimo comando sudo apt install Flatpak. Il desktop Mate rimane uno degli ambienti desktop migliori in circolazione, con il gesto equilibrio tra semplicità e configurabilità, tutto con un utilizzo di risorse relativamente basso. L'unico motivo per cui non ti consiglierei di aggiornare Ubuntu Mate alla versione 22.04 immediatamente è nel caso in cui hai bisogno di repositori di terze parti, perché non tutti i PPA sono ancora aggiornati per supportare la versione 22.04 di Ubuntu. Ma questo, spero, che cambierà tra qualche settimana. Grazie dell'attenzione. Ti ricordo che troviamo i video sia su YouTube che su Odyssey. Trovi tutti i link in descrizione. Al prossimo video. Ciao! Ma dall'altro, al primo avvio di Firefox...